Premesso non concesso che non pensavo di tornare vivo, ho scelto di scendere in Siria perché penso che sia un percorso coerente, non si può sempre essere contro qualcosa, non si può sempre lamentarsi che qualcosa non funziona e poi non fare niente, non essere i primi in prima linea a metterci le mani nel fango, nel capire e nel mettersi a disposizione. In più ci fu un avvenimento in particolare nel agosto 2014 che mi segnò, ovvero fu forse per così dire la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l'idea che esistessero delle donne trattate come schiave del sesso, cioè le yazide utilizzate all'epoca nel 2014 in un mondo che le vedeva solo come oggetti di usufrutto dell'uomo era per me qualcosa di inconcepibile. Quello fu, avvicinarsi a quella tematica fu uno degli ultimi elementi che mi portò a decidere di scendere a combattere in Siria, poi nel 2015 incontrai delle famiglie yazide le cui figlie erano rimaste catturate e trascinate dentro la capitale dello Stato Islamico. Non sarei mai sceso a combattere solo contro Isis, sono sceso a combattere anche perché credo che in questo momento storico lo YPG e le YPG, quindi le unità di combattimento sia maschili che femminili, rappresentino qualcosa di nuovo, di innovativo, di rivoluzionario, forse si potrebbe anche dire. Il fatto di vedere un mondo in cui per esempio l'amministrazione è controllata al 50% da donne e da uomini, oppure l'idea stessa che le città che noi abbiamo liberato venissero date in gestione a un consiglio cittadino fatto multireligioso, che ci siano 500 islamici o due cristiani ce ne sono sempre comunque ad amministrare islamici, cristiani e atei. Tutto questo secondo me era rivoluzionario. E quindi questo l'ho rafforzato. Ho capito che era effettivamente quello che volevo ed è quello che ritengo e volevo contribuire a farne parte di tutto ciò. Il resto, chiaramente alcune cose erano diverse. Forse qualcosa che ho notato di diverso è che speravo in un supporto mondiale più grosso. E invece ho visto che una volta che abbiamo liberato Racca, quando Afri, nella nostra città, una delle più grosse, è stata attaccata dalla Turchia e dai gruppi jihadisti, quindi il mondo ci ha voltato le spalle. Nonostante quel 17 ottobre in cui Racca fu libera, voi tutti ci avete ringraziato, ci avete omaggiato, eravate felici che Racca era stata liberata. Io adesso sono ancora vivo, cosa che non davo per scontato. Sinceramente pensavo di morire in guerra. Ma ora che sono vivo ho un dovere verso le famiglie dei nostri martiri, delle persone che hanno dato tutto per far sì che noi potessimo continuare a vivere. E quindi mi sono ripromesso e ho promesso a loro che avrei utilizzato tutto il fiato che ho in corpo per divulgare, per spiegare, per sensibilizzare verso quello che è successo e quello che accadrà. Il mio impegno ora, giornalistico e di divulgazione, il libro per me è solo uno strumento per poter spiegare e arrivare alla gente, far capire che un male come Isis si forma in un certo modo. E quel tipo di mentalità esiste anche qua in Europa. Per esempio la mentalità sessista. Non è l'unico elemento di Isis, ovviamente. E la seconda cosa è che si può cambiare e si deve fare. Come sempre arrivano spesso informazioni distorte o ritardate o parziali. E io cerco anche di correggere questo, di spiegare, di dare un elemento in più. Spesso per esempio non ci si focalizza su tutti i cittadini italiani che sono andati con Isis, perché non ci si vuole assumere la responsabilità del fatto che questi cittadini siano nati e cresciuti in Italia. E che in qualche modo la nostra società stessa, dobbiamo fare autocritica, ha portato alcune persone ad avvicinarsi a quel mondo. La sicurezza è un elemento importante, il problema è come viene svolta. Sicuramente non è un mondo sicuro in quello in cui si costruiscono barriere e si puntano armi verso il prossimo. Un mondo sicuro è quello in cui Isis non esiste, perché tu educhi e fai sì che quella mentalità non nasca. È solo con l'educazione, forse l'arma più grossa, la solidarietà, l'impegno e la comunicazione che si evita che tutto ciò cresca. Non vorrei ricordare, ma forse dovrei farlo, le parole di Primo Levi, riguardo proprio al fatto che non troveremo la bandiera nazista e fascista nel nostro futuro, ma troveremo qualcuno che la penserà così e che nuovamente, parafrasando Primo Levi, porterà a quel modo di pensare. Così si sconfigge Isis, così in realtà si produce un mondo di sicurezza, un mondo dove si può stare veramente bene. Le città che abbiamo liberato ora sono molto più sicure di come erano prima. Ricordo che abbiamo combattuto un nemico trasversale gigantesco ed ora stiamo affrontando le brame di potere dei gruppi jihadisti e turchi, eppure li combattiamo con poche armi e poco nulla, ma con una grande voglia di fare la differenza. Ed è proprio questo. Pensate un attimo all'Italia. Facciamo fatica a essere uniti. Nel nord della Siria abbiamo unito oltre 200 tribù, tre religioni monoteiste, atei, due identità culturali diverse, come quella curda, come quella araba, e tutto questo in un territorio difficile ed aspro. Eppure ce l'abbiamo fatta. Indipendentemente da come andrà, già questa è una rivoluzione. Il mio libro è sia una testimonianza, voglio che rimanga qualcosa alla storia, perché credo che sia importante quando ci si scontra con la realtà, raccontarla affinché serva anche agli altri. In secondo luogo sono analisi, riflessioni, cerco di far capire come si arriva lì, come una persona decide di dedicare tutto. Come ho fatto io e tanti altri sulla mia maglietta, forse vedi c'è un amico, un caro amico che è morto in un assalto a RAC, Robert Gront, un americano. Far capire forse questi volti, far capire come si arriva lì, far capire che anche oggi, anche nel 2018, in un mondo forse fatto troppo di egoismo, c'è gente che decide di dare tutto per tutto al fine del bene che riguarda tutti.